come riferimento. Dall'alto al basso ricomponiamo il pacchetto delle nazionali in Vasca, Germania, Francia, Italia, Australia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Corriere del Sud e Brasile. Per quello che riguarda la nostra nazionale, se si vuole sperare in qualcosa, ci vuole la gara perfetta da parte di ognuno dei nostri ragazzi oppure sarà niente. Il primo ad aprire sarà Marco De Tuglio. Pronti per andare sul blocchetto di partenza. Italia, ripeto, corse numero tre, terza dall'alto. Finale mondiale 4 per 200, stile libero Italia che in apertura si affida a Marco De Tuglio. ci vuole la gara perfetta da parte sua a seguire di Filippo Megli, Matteo Ciampi e Stefano Di Cola. Gran Bretagna che mette nella prima frazione Duncan Scott e gli dà un'opportunità di gareggiare anche nei 200. Si libera lui che è rimasto fuori nel confronto interno con Richard che poi qua ha vinto la gara e Dine che ha perso di soli due centesimi e poi la Corea che ovviamente sfrutta San Woh-Wang per cercare la fuga nella prima frazione per lo meno avvantaggiarsi un minimo. Attenzione a De Tuglio, non può perdere troppo terreno nei primi 100 metri e nei secondi è molto valido ma deve rimanere comunque nella scia e non passare dietro a linea dei piedi. Resta indietro, speriamo non troppo Marco De Tuglio perché nella seconda parte di questa prima frazione deve assolutamente riportarsi un po' più sotto di così perché altrimenti il compito diventa complicato se non impossibile per Megli Ciampi e Di Cola. C'è l'atteggiamento molto aggressivo da parte della Germania con Lucas Martens che passa al comando ai 50 poi ai 100 in 59 con Sun Wu Wong che è scivolato in terza posizione in seconda si sono portati gli Stati Uniti con Luke Hobson che sono passati a 51 e 25 ai 100 metri sempre Stati Uniti in seconda posizione ai 150 1,18 e 19 con Martens a 1,17 e 96 per quello che riguarda l'Italia 1,19 e 94 Marco De Tuglio in ultima posizione ci vuole un ultimo grande 50 altrimenti la prova rischia di essere compromessa e intanto risale anche la Gran Bretagna con Duncan Scott Gran Bretagna che si porta in seconda posizione al cambio davanti c'è la Germania una missione quasi impossibile per l'Italia una frazione di Marco De Tuglio da 1,47 e 43 una frazione devastante quella di Martens da 1,44 e 79 e De Tuglio che rimane però troppo distante da quanto notato nella gara individuale un secondo e mezzo e questo è un modo terribile di iniziare una staffetta in cui perdiamo il treno scia dell'Australia e a dispetto di un Megli che questa mattina ha dato grandi emozioni e grandi sensazioni e ci troviamo a nuotare nelle onde aggravante non da poco Incomiabile Incomiabile Filippo Megli il primatista italiano che riporta l'Italia in settima posizione ne fa guadagnare una dopo 50 metri 23,69 il primo parziale ma è un'impresa difficilissima perché davanti stanno andando a tutta davanti c'è la Germania che schiera Rafael Miroslav 50,87 il primo cento del tedesco con Filippo Megli che ha guadagnato un'altra posizione adesso l'Italia in sesta è una 50 e 31 però ci sono altre due vasche da notare le fatiche si possono far sentire Germania e poi all'inseguimento ci sono Australia Stati Uniti e Gran Bretagna con il tentativo di Filippo Megli di riguadagnare più spazio possibile attenzione anche alla Corea del Sud che ancora non ha mollato definitivamente la presa no dispetto di una prima frazione decisamente sotto tono rimangono a contatto con la Gran Bretagna che sfrutta Richards nel suo momento migliore ovvero nella progressione degli ultimi 50 chi fino adesso ha fatto il miracolo senza dubbio è la Germania con quella frazione di apertura mostruosa di Martens e adesso fa fatica Filippo Megli prestazione incomiabile ha speso tantissimo per cercare di recuperare qualcosa il tempo di Filippo 1'44 e 94 una bellissima frazione da parte dell'Azzurro a 31 centesimi lo stacco per il cambio di Matteo Ciampi vediamo come va intanto davanti continua il tentativo di impresa della Germania che ora però subisce pesantemente il ritorno della Gran Bretagna dopo la frazione di Matthew Richards tocca James Guy miracolo devo dire di Megli una frazione come mai si è vista in Italia perlomeno in tessuto rimane dietro solo quella di Filippo Magnini all'Olimpiade del 2008 1'44 e 94 questo è un crono che gli permetterebbe di gareggiare in qualsiasi quartetto al mondo davvero una grande frazione del Fiorentino per rimanere appesi a una speranza e piace dire in un contesto così importante come quello del Mondiale dopo tutte le difficoltà ben tornato ben ritrovato Filippo Megli tocca a Matteo Ciampi ora a provare a fare qualcosa vediamo il tempo 50 e 76 il passaggio di Matteo un pochino più alto rispetto a quello di Filippo Megli con l'Italia che però si è riportata in quinta posizione continuano a provare ad andare a caccia degli avversari i nostri ragazzi davanti Gran Bretagna Stati Uniti Australia con la Germania che non molla in acqua c'è Joshua Salkov no però stiamo piano piano risolendo abbiamo un minimo di margine sulla Francia davanti a una battaglia però apertissima in cui l'esperienza di Guy viene messa a dura prova dal tentativo degli Stati Uniti di inserirsi l'Australia è lì ancora ancorata al coppia di testa che adesso allunga Italia in quinta posizione davanti Gran Bretagna poi Stati Uniti poi Australia Germania in terza posizione Italia Germania in quarta posizione pardon Italia in quinta e vediamo il cambio che viene dato Stefano Di Cola 0.03 precisissimo via con Stefano Di Cola che prova subito ad aprire il gas per cercare di combattere nel testa a testa con la Germania per la quarta posizione e sperare in un eventuale cedimento dell'Australia che schiera Thomas Neal la Gran Bretagna intanto prova a prendere definitivamente il volo con Tom Dean davanti agli Stati Uniti all'Australia che sono il punto di riferimento per il bronzo un punto di riferimento difficile da raggiungere vediamo che succede in questo finale di gara 1.46.03 per Champ in terza frazione è notevole devo dire una frazione perfetta da parte sua abbiamo Leon Marchand che sta sviluppando delle subacquee inquietanti anche in questa gara e ha permesso alla Francia di risalire esattamente a livello di Italia e Germania c'è la Gran Bretagna davanti gli Stati Uniti all'attacco l'Australia che difende la terza posizione poi un terzetto dove ora spicca l'azione di Leon Marchand per la Francia in corsia numero 2 che riesce a superare sia Stefano Di Cola che il tedesco Timo Sorgius un Leon Marchand ancora una volta da numero da circo scatenato Gran Bretagna davanti invece Gran Bretagna che vuole volare verso il titolo di campione del mondo vuole sfilarlo agli Stati Uniti Tom Dean 1.17.52 nella passaggio ai 150 metri gli Stati Uniti che però non mollano cuffia scura degli americani cuffia scura di Kieran Smith che è sempre lì a mettere pressione a Tom Dean ultime bracciate per la Gran Bretagna che sta per salire sul tetto del mondo è game over e titolo oltremanica poi Stati Uniti e Australia per il labronzo con l'Italia che sprinta per la quarta posizione alla fine ci accomodiamo sul quinto posto 7.03.95 stavo dando subito un'occhiata alle frazioni dei nostri ragazzi spicca l'1.44.94 enorme supera Filippo Megli e l'1.45.55 di Stefano Di Cola la Francia ci resta davanti ma per un niente per nove centesimi soprattutto per merito della frazione di Leon Marchand continuano ad accarezzare il record del mondo senza riuscire a strapparlo agli Stati Uniti i britannici che comunque confermano il loro leadership due anni dopo Tokyo il passo falso dell'anno passato Australia che ci rimane davanti in maniera molto netta ma l'avevamo detto ci voleva un quartetto perfetto in ogni singola frazione e ne abbiamo avuti tre quarti perché oggi purtroppo Marco De Tuglio non è riuscito a tirare fuori una frazione all'altezza di questa 4x2 Italia comunque quinta al mondo il che è un risultato di spessore però no è decisamente buono però quando tu vai a vedere poi i frangenti e trovi questi crono ma soprattutto hai un atleta che ha notato 1.46.0 e qui ti apre la staffetta con un secondo erotti di più e ti penalizza moltissimo e questo ce lo siamo portati dietro per tutta la gara abbiamo schierato quello che doveva essere il nostro migliore in prima frazione come giusto che sia e Megli che aveva dato grandissimi segni in mattinata per rimanere a contatto però il giochino è cambiato immediatamente quando sei dietro e nuoti nelle onde le complicazioni salgono però è pronto è pronto guardiamo i risultati positivi è pronto è tornato definitivamente Filippo Megli che nel 2019 ha vissuto il suo anno magico ha carezzato il podio mondiale sia in gara individuale che in staffetta poi le difficoltà legate a un